Oggi la democrazia soffre perché le società sono più polarizzate, attraversate cioè da tensioni sempre più aspre, tra gruppi antagonisti dominate dalla contrapposizione amico-nemico, dalla pervasiva convinzione che l'individuo è tale quando è al centro, mentre l'individuo è solo nella relazione che comprende il suo valore. Le pandemie ci hanno fatto comprendere il senso di comune appartenenza, di comunità di destino, di partecipazione a una vicenda collettiva. Non lo dimentichiamo. Non c'è democrazia senza un noi, ma non c'è persona senza l'altro. La democrazia non solo afferma la libertà, ma promuove anche l'uguaglianza. Non programma strattamente i diritti, ma difende concretamente la dignità umana, soprattutto dove è più pesantemente violata. Ecco perché la democrazia non vuol dire solo istituzioni, leggi e procedure, diritti e doveri, ma anche inclusione dell'altro, del fragile, dell'emarginato.